Il 2019 non inizia, sono sotto un buon auspicio, basta vedere l'articolo pubblicato sui diversi giornali che parlano delle crisi di luna totale o meglio detta la luna di sangue. Dice le crisi della luna il 2019 si apre con la super luna di sangue e le due righe sopra riporto e crisi totale e super luna di sangue all'inizio del nuovo anno non sono un buon auspicio o un buon segno. Questa è la realtà. L'inizio dell'anno a gennaio la luna di sangue come l'anno scorso ci fu al 27 di luglio che però indicava un tempo passato sì che aveva duemila anni prima e come dissi feci notare dall'inizio della morte di Cristo. Dopodiché le spiegazioni segni che davano appunto riportato appunto nella luna rossa dell'anno scorso evidenziavano che riguardava la chiesa e come tutti sanno dalle croniche di ogni giorno la chiesa è quasi sprofondata nell'abisso delle inchiese sugli abusi sessuali in ogni parte del mondo e lo stesso Papa Bergoglio oggi in un articolo ha detto il 2018 è stato un anno difficilissimo per me la chiesa. Ecco è un po' come la crisi luna totale che ci sarà all'inizio dell'anno il 21 gennaio però questa riguarda il futuro come alcuni segni hanno indicato sì che potrebbero essere molto molto brutti e difficili non solo per le guerre che potrebbero scoppiare come poi andremo a vedere in un altro video ma soprattutto per quello che la natura potrà manifestare e alcuni esempi le danno appunto gli articoli giornali che andremo a vedere come questo dell'altro giorno meteo il sole si sta spegnendo ecco cosa significa e le conseguenze immediate sull'italia ovviamente anche sul resto del mondo ma vediamo all'interno ecco all'interno dell'articolo ci raccontano che il sole è piccolo e continua a dormire l'attività solare in misura isolata in manche presenti sulla superficie della nostra stella è ridotta al minimo e qua vi aveva quello che normalmente tutti potrebbero sapere sanno già o possono leggere ma il punto importante è questo ecco quando si racconta nell'articolo che del minimo solare non è una novità anzi è già successo nel corso della storia viene ricordato infatti con il nome di minimo di maunder il periodo tra il 1645 e il 1715 circa in cui l'attività solare fu ridotta al minimo provocando una vera e propria piccola era glaciale durante la quale l'europa e nord america subì in inverni estremamente rigidi si registrarono anomalie climatiche gravissime e ghiacciò anche il po così come alcuni laghi dell'italia centrale con danni enormi alla produzione e con conseguenze conseguenti carestie ecco questo è uno ma vediamo poi l'altro articolo ecco questo è l'altro articolo che parla sul minimo solare di cui abbiamo appena letto e dice minimo solare avrebbe un impatto sul meteo terremoti e vulcani i cambiamenti meteo climatici in questi ultimi mesi sono sotto gli occhi di tutti così che è una delle maggiori preoccupazioni e qua entriamo nell'articolo ecco qua siamo entriamo nell'articolo che appunto ripete meteo terremoti e vulcani influenzati da minimo solare e qua ci racconta in modo scientifico e cambiamenti meteo climatici di questi ultimi mesi sono sotto gli occhi di tutti così che una delle maggiori preoccupazioni nei paesi occidentali rappresentate dai cambiamenti climatici che provano provocano condizioni meteo del tutto in in attesa e qua racconta abbiamo più volte detto che siamo in una fase chiamata minimo solare dove le macchie solari sono pressoché assenti o nude gli astronomi gli astronomi prevedono che l'attuale minimo solare possa durare vari decenni forse fino al 2045 un periodo ben oltre la miglia di undici anni il minimo solare secondo l'opinione dei scienziati con l'ausilio di dati e rilevamenti genera un calo delle temperature medie del pianeta in tale circostanza il calo termico i minorebili effetti appunto del caldo ma l'attenzione viene soprattutto riportata dove si proprio in questo punto qua ma ancora licenziati con numerose pubblicazioni hanno dimostrato una correlazione tra minimo solare ed aumento di terremoti ed eruzioni vulcaniche gli autori delle ricerche sostengono che grandi grandi mini minimi solari rappresentano un fattore determinante nell'innescare forti terremoti o e gigantesca eruzione vulcaniche la causa sarebbero i raggi gamma provenienti dal sole ecco questa è la parte importante o più preoccupante come andremo a vedere il motivo adesso nel prossimo articolo ecco questo è l'articolo di cui appena detto che dovrebbe preoccupare di più e riguardano appunto i vulcani dicono che vulcani sono la più grave minaccia per la terra e potrebbero svegliarsi in qualsiasi momento e simonati dal minimo solare potrebbe succedere nel corso di questi dei prossimi mesi e la nasa parla di una grave minaccia per la terra gli specialisti della nasa credono che l'eluzione di un super vulcano porterebbe a conseguenze molto più gravi di ecco qua siamo entrati dentro l'articolo nasa parla di un grado di una grave minaccia per la terra gli esperti della nasa credono che l'eluzione di un super vulcano porterebbe a conseguenze molto più grave rispetto a quelle della caduta di un asteroide e quando leggiamo gli esperti ritengono che oggi sulla terra ci sono una ventina di super vulcani i quali potrebbero ruttare in qualsiasi momento inoltre sostengono che l'eluzione di un vulcano di questo tipo potrebbe portare ad un inverno vulcanico il quale potrebbe portare alla morte diversi milioni di persone ecco questo è il pericolo più grosso che accompagna o almeno che esprimo anticipa la luna nera del 21 gennaio cosiddetta di sangue e accompagnata dal minimo solare il quale come abbiamo appena detto negli articoli può risvegliare vulcani e provocare molti terremoti ma soprattutto i vulcani e questa ventina di vulcani uno solo di questi si risvegliasse distruggerebbe buona parte la vita sulla terra per decine di anni o più ma non è solo questo c'è ancora una cosa peggiore un altro come andremo a vedere ecco la bruttissima notizia riportata in quest'altro articolo e come dicono le tre righe sotto lo sottolineo sopra anzi un'altra bruttissima scoperta fatta dai scienziati trovato un enorme vulcano in antartide potrebbe distruggere la vita sulla terra e allora noi leggiamo un articolo antartide scoperto super vulcano più pericoloso di yellowstone un team di ricercatori scozzesi ha scoperto un grande accumulo di vulcani in antartide a pochi chilometri sotto entriamo anche in articolo ecco qua siamo entrati in articolo antartide scoperto super vulcano più pericoloso di yellowstone e noi leggiamo un team di ricercatori scozzesi ha scoperto un grande accumulo di vulcani in antartide a pochi chilometri sotto il livello del permanfrost uno dei quali è più grande e pericoloso del super vulcano che si trova sotto il parco nazionale di yellowstone negli stati uniti lo riporta oggi il planet todai come dimostrato da un'analisi comparativa il gruppo di vulcani scoperti rappresenta un pericolo molto maggiore per il pianeta e i suoi abitanti rispetto a quello nord africano la presenza di super vulcani in antartide era sospettata da licenziati ma solo ora sono stati ma ora so ma ora solo ora sono in grado o hanno ottenuto la conferma visiva sotto il ghiacciaio sono stati trovati diversi laghi precedentemente sconosciuti e con essa appunto una serie di vulcani tra cui in uno che è il più grande del mondo e da solo come abbiamo abbiamo appena letto potrebbe distruggere la terra e il minimo di crisi solare come abbiamo visto può influenzare il risveglio dei vulcani e da qua il significato all'inizio dell'anno della luna di sangue o la luna nera il 21 gennaio e questi sono i video pubblicati soprattutto sulla luna rossa dell'anno scorso in cui la luna rossa sangue precede la fine e faccio riferimento soprattutto alla chiesa alla nascita e la morte di cristo 2000 anni prima perché era una luna eccezionale mai avvenuto mai avvenuta che durasse così tanto e poi appunto si ricollega all'altro le tre crisi del 2018 indivano sangue morte e in effetti queste sono le tre crisi avvenute comunque per evidenziare il significato della luna che ci sarà in gennaio 2019 è stato sufficiente leggere quegli articoli per capire che in effetti è preoccupante quel segno inquietante della luna di sangue che ci sarà il 21 gennaio 2019 ma come sempre certezze non ce ne sono bisogna aspettare e vedere i fatti attra% attra%